Ciao a tutti, eccoci qua, Angry Birds sta per uscire, è un film per bambini, però anche noi adulti ci siamo ghesati perché quante ore abbiamo speso in questo cellulofono a giocare con questo giochino della Rovio, fantastico, adesso esce questo film, vediamo un po' com'è questo trailer, sono un po' ghesato perché secondo me fa un sacco ridere, Sony, logicamente, Columbia, Rovio e via, andare, la triade, isoletta, fantastica, paradisiaca, via, si, volevo più pallosi, sono uccellatissimi, è rossissimo, è lungo, è un bananone, un uccello banana, sento Dio Arriva il fenomeno blu che fa il figo con la banana, ma che sceglie, me lo manco, me lo andai bene Ui, è fuori, è un pallone, ho l'uccellino blu, cazzo all'uccellino, via, via, via Ci eserciteremo a gestire la nostra rabbia, con il momento, l'uccello banana, buttola l'uccello banana, grave, mi riguarda A volte quando mi arrabbio mi... Oh papillero, l'uccellone nero, si va bene, suona malissimo l'uccellone nero, però vabbè, ci sta, ci sta, ci sta Ah, chiedo scusa, questa cresta Leo, tutto questo no, è bellissimo, è bellissimo, è bellissimo, è bellissimo, no, viva Sono un maiale Non funziona, non funziona, dove andiamo? Non funziona Lo abbiamo provato cento volte Rifacciamo l'arrivo Non funziona So once again, who's bad?